Come sta cambiando il quadro energetico mondiale e in che modo il calo del prezzo del petrolio sta influenzando gli stati, le aziende e la società? C'è stato un grande cambiamento, soprattutto la scoperta dello shale oil e lo shale gas negli Stati Uniti, che ha reso indipendente gli Stati Uniti da grande importatore, gli Stati Uniti è diventato autosufficiente e questo ha cambiato gli assetti, mentre prima i grandi produttori erano i paesi medio orientali riuniti sotto l'OPEC, oggi c'è un'altra componente molto importante, i produttori, che sono proprio gli americani, quindi questo sta cambiando complessivamente gli assetti energetici, l'Europa ha bisogno di diventare sempre più un mercato unico per avere più sicurezza energetica e anche un prezzo più basso, servono interconnessioni, serve un mercato unico, servono regole chiare, è chiaro che il prezzo del petrolio così basso da una parte ovviamente rende la vita un po' più dura alle compagnie oil e gas qualeni, però tutte quelle compagnie, noi comprese, stiamo facendo tagli di costi, stiamo facendo solo gli investimenti più corretti, stiamo concentrando sui progetti migliori, dall'altra parte ovviamente contribuisce a far crescere l'economia perché per tutte le altre imprese il petrolio più basso ovviamente incide in positivo sull'economia.